Qualche considerazione sul titolo del corso, si sente? Loro avranno visto sul libretto per gli studenti che il titolo del corso è Sul senso del nostro tempo Forse saranno rimasti anche meravigliati a vedere che il primo argomento del corso Cioè quello che avremmo dovuto trattare oggi, che dovremmo trattare oggi E' intitolato presso poco la struttura storica del pensiero filosofico E allora la prima impressione penso che sia di sorpresa Per il fatto che si unisca il concetto di senso del nostro tempo Al concetto di struttura storica del pensiero filosofico E allora qualche chiarimento su questo titolo e su questa vicinanza di temi Perché penso che molti di loro, tutti Si possano chiedere Ma perché senso al singolare? Perché il senso del nostro tempo E non i sensi del nostro tempo Visto che la nostra cultura E ormai le nostre università sono piene di questo atteggiamento La nostra cultura valorizza le specializzazioni E ogni specializzazione esibisce un certo contenuto E in relazione al nostro tempo Le varie specializzazioni scientifiche Dicono che cosa è, qual è il senso del nostro tempo Per esempio dal punto di vista della geopolitica Dell'antropologia Della storia Dell'economia Eccetera eccetera Allora i sensi del nostro tempo Che si sia arrivati a questo plurale Che i contenuti E dunque quel consistente contenuto che è il nostro tempo Si sia arrivati alla convinzione Che non si possa parlare di un senso Ma di una pluralità di sensi Non è un fatto inspiegabile Anzi uno dei propositi di queste mie conversazioni È quello di spiegarlo Ma già ora dovrebbe essere fuori discussione Che da un lato c'è l'intento Che si sia arrivato Da un lato c'è l'intento Di affermare l'esistenza di un unico senso Dall'altro contrapposto C'è l'esigenza di affermare l'esistenza di una molteplicità di sensi Gli elencavamo Senso geopolitico Senso economico Tecnico Storico eccetera Ma allora Una prima osservazione Che credo che possa essere da loro condivisa È che comunque vadano le cose Il nostro tempo è caratterizzato Dalla contrapposizione Tra la volontà Che il nostro tempo abbia un senso Globale E la volontà che sia Impossibile il reperimento di un senso globale Ma che esista una pluralità di sensi Quindi il senso sarebbe il contrasto Tra l'unità E la molteplicità Dunque cari signori Noi cominciamo alle 11 Perché facciamo dalle 11 all'1 Quindi Alle 11 La contrapposizione Dicevo Per quelli che erano presenti Tra la volontà di unita Che significa Possibilità di afferrare Un comune denominatore Rispetto a tutto ciò che oggi sta accadendo E invece quella ben più Tra virgolette Pratica volontà Di esibire dei significati Specializzati Che oggi vengono Che oggi sono particolarmente ambiti Soprattutto in relazione al desiderio Sacrosanto dei giovani Di trovare un'occupazione E che quindi Non si debba perdere il tempo A considerazione di carattere globale Abbiamo pronunciato una parola Abbastanza Rilevante Perché per esempio Per quanto riguarda La contrapposizione Di cui stavo parlando È la contrapposizione Tra la volontà di concretezza E La volontà di Che rispetto alla prima Che si può chiamare Volontà di astrattezza Volontà di concretezza Questo vuol dire Non perdiamo il tempo In astruserie filosofiche Ma consideriamo I fatti particolari Del nostro tempo Sui quali abbiamo Più competenze Che non Volendoci dirigere Verso Il tentativo Di una Di una Di un reperimento Di un significato globale Del nostro tempo È proprio così Pacifico Questo Atteggiamento Di relativo Disimpegno Rispetto alla cosiddetta Strattezza Loro ci saranno Accorti Guardando la televisione O i mass media Come la parola Concreto Sia una parola Vincente Basta che uno Dica concreto Che si mette In una buona Posizione difensiva Rispetto all'interlocutore Ma anche Offensiva E beh Ma Il concreto Che cos'è Guardiamo un po' Il concreto Può essere Per esempio Guardare la situazione Italiana E non Disperdersi Nella considerazione Del nostro Tempo La situazione Italiana Ma La situazione Italiana Da capo Può essere Considerata Da una Molteplicità Di punti di vista L'economia La politica La geopolitica E i vari modi Che prima Ho elencato E che costituiscono Le specializzazioni Scientifiche Quindi anche La situazione Dell'Italia Oggi È oggetto Di una pluralità Di punti di vista Che mettono in risalto O la politica O l'economia E via dicendo Però Il cosiddetto Concreto È sempre Un astratto Rispetto a un Più concreto Che si potrebbe Esibire Rispetto a chi Per esempio Oggi parla Dello scontro Tra sovranismo I partiti Attualmente Al governo E europeismo I partiti Dell'opposizione E allora Basta accendere La televisione Per vedere Come L'indigestione Che si fa Di questi termini Per contrapporre A questa Concretezza Di considerazioni E il fatto Che anche Questi concetti Di sovranismo E di europeismo Sono degli astratti Rispetto Poniamo Alla storia Dei singoli individui Ognuno di noi Ha una storia Ma che cosa Ne sanno I concretisti Che parlano Della contrapposizione Tra sovranismo E europeismo Che cosa Ne sanno Costoro Della nostra Storia individuale Che d'altra parte È determinante Se non altro Perché siamo Degli elettori Ma Ben di più Anche ben di più Di questa circostanza Che cosa Ne sanno Di quel mondo Ricchissimo Che ognuno Di noi è E che sfugge Completamente Ai Gli esaltatori Perché sta in piedi Agli esaltatori Della concretezza Dove voglio Arrivare A dire Che Il concreto È la decisione Di arrestarsi A un certo punto Della Volontà Di concretezza È la decisione Relativamente Arbitraria Per esempio Di non prendere In considerazione Il nostro mondo Particolare Che non è Soltanto il nostro Ma è quello Degli italiani Relativamente Al rapporto Tra sovranismo E europeismo E la decisione È la decisione Di non prendere In considerazione Tutto Quell'enorme Ricchezza Di fatti Di eventi Che d'altra parte Costituiscono Ciò di cui Mass media Parlano Quando parlano Di contraposizione Tra Tra sovranismo E europeismo E questa È una prima Considerazione Cioè Non è così Scontata La primazia Dell'atteggiamento Concretista Rispetto All'atteggiamento Che potremmo dire Astratto Facciamo una parente Che cosa Manda oggi E su questo punto Insisterò Particolarmente Che cosa Manda avanti Oggi in mondo Più Della tecnica E che cosa È la tecnica Se non L'applicazione Della scienza Moderna All'industria E la scienza Moderna Che cosa Ha Nel suo Cuore Di più Essenziale Se non Il sapere Matematico E che cosa C'è di più Astratto Del sapere Matematico Rispetto a tutte Le altre forme Di sapere Sì che Il massimamente Astratto È quello Che muove In questo caso Il sole E le altre stelle E il sapere Matematico È quello Che muove La concretezza Smettendo L'illusione Che soltanto Parlando Di cose concrete Di cui le nostre Università Sono piene Si possa Sopravvivere Adeguatamente E quasi Che Amo fare Questa Questa Metafora Quasi Che Se Ci immaginiamo Una nave Dove Dove L'equipaggio E i passeggeri Sono intenti A A controllare Il buon funzionamento Del servizio Poniamo Del servizio Devoluti Ai passeggeri Dove sono intenti Magari A riparare Una falla E Non c'è Un pilota Che Dirige La nave Verso Un certo Porto Costoro Vivono Vegli Inveglia O Insogno Se Tutti Gli abitanti I passeggeri Di una nave Sono lì Intenti A vedere Come Vengono serviti I piatti A mezzogiorno E la sera Sono intenti A riparare La falla Ma Non sanno Che è la falla Di una nave Non hanno Notizie Di essere Su una nave Non hanno Notizie Perché non c'è Un pilota Che guida La nave E Certamente Viceversa Se un pilota Non sa Di essere Il pilota Di una nave Che è Costituita Da Situazioni Come quelle Che ho accennato Riparazione Della falla Buon funzionamento Del Del comportamento Di bordo Eccetera A sua volta Il pilota Non potrà Dirigere La nave La conclusione Di queste prime Battute È che Non è così Pacifico Che il cosiddetto Concreto Abbia la prevalenza Sull'attratto Anche perché Il modo in cui Oggi Stando al tema Del Sovranismo Europeismo Anche perché Stando al modo In cui Questo tema Oggi Viene Considerato Per lo più Non tiene conto Del modo In cui Dal punto di vista Scientifico Dal punto di vista Delle Scienze Della società È stato Considerato Qui vorrei Invitare Loro A tenere Presente Che cosa Accadeva Nella Germania Nazista Dove È esistito Forse Uno dei più Grandi Giuristi Del secolo Scorso Karl Schmitt Da non confondere Con Adam Schmitt Karl Schmitt Cattolico Eminente Giurista Nazional Socialista Ora Come Non si tratta Di un Losco Individuo Tutt'altro Ma Di un individuo Che non Era conoscenza Di ciò Che accadeva In Germania Questo è già un problema Rilevante Un personaggio Che ha rivestito Dei ruoli Chiave Nella struttura Giuridica Della Germania Di Hitler Che Considerava Il nazionalsocialismo Come La difesa Dell'uomo Contro Contro La Non Umanità Delle Forze Antitetiche Anglosassoni Bolsheviche Ebraiche È un Nesso Estremamente Interessante Più o meno Hitler Mi pare Nel 34 Diceva Come Inghilterra Ha Conquistato La Primazia Sui mari E Ha Costituito Il proprio Impero Marittimo Oggi Ereditato Dagli Stati Uniti Così La Germania Ha tutto il diritto Di Fare Altrettanto Ma Sul piano Che Schmidt Chiama Terraneo Allo Spazio Marittimo Dell'Inghilterra Lo Spazio Terraneo Che Ha il suo Centro Nel Popolo Tedesco Spazio Marittimo Diceva Schmidt Significa Una Connessione Che va Dalla conquista Dei mari Da parte Dell'Inghilterra E Arretriamo Al Dicessettesimo Diciottesimo Diciannovesimo Secolo Conquista Dei mari Conseguente Industrializzazione Perché Le esigenze Di una Navigazione Richiedono Competenze Pratico Tecnologiche Superiori Rispetto A un Popolo Che Viva Legato La terra La Navigazione Implica Un insieme Di conoscenze Di prestazioni Ben superiori Quindi Non è un caso Rileva Schmidt Che La Diffusione Che L'occupazione Dei mari Che la forza Marittima Dell'Inghilterra Sia stata Accompagnata In Inghilterra Dall'industrializzazione Che vi sia stata Una cultura Illuministica Che abbia esaltato La tecnica E che vi sia stata Alla radice Di tutto questo Lo sradicamento Della gente Dalla terra In cui Era nata Sradicamento Che ha La sua Espressione Diceva Schmidt In qualche Modo Anticipando Ripetendo Quello che Diceva Heidegger Sradicamento Che ha La propria Espressione Più Significativa Nello Sradicamento Del popolo Ebraico Che appunto Ha Dato vita Alla diaspora Più Significativa Del mondo Moderno E contemporaneo Diaspora Vuol dire Un popolo Senza terra Che adesso Si Ha voluto Dopo la prima La seconda Guerra mondiale Avere uno Stato Ma che Nella sua Complessità E' diffuso E' sparpagnato In tutto il mondo E' sradicato Dal terreno Quindi Potenza Marittima Dell'Inghilterra Induzionalizzazione Tecnica Sradicamento Dal suolo Celebrazione Illuministica Di questi Fatti Globalizzazione E' globalizzazione Che ha un carattere Eminentemente Tecnico La globalizzazione E' capitalistica Oggi Ma Il capitalismo Può fare Quello che può fare Soltanto In quanto E' gestione Delle capacità Tecniche Che l'uomo E' riuscito Ad acquisire Allora Da questo quadro Emerge La protesta Della Germania Nazionalsocialista Per bocca Di Carl Schmitt La quale rivendica La necessità La necessità Di un potere Terraneo E quindi Statale E quindi Sovranista Di contro A un atteggiamento Globalizzante Tecnologico Che rispetto Alla situazione Italiana Attuale Corrisponde In grande In grande A coloro Che oggi In Italia Rivendicano Richiamano La necessità Che l'Italia Non abbia A sganciarsi Dall'Europa Allora Il fenomeno Microfenomeno In Italia È Sovranismo Sta A Europeismo Così come Sul piano Del macrofenomeno Spazi Terranei Schmitt Sta A Globalizzazione Marittimo Tecnologica Ebraica E' venuta fuori L'espressione Tecnica E sarà Una parola Che ci occuperà Per Non per poco Perché Anche E soprattutto A proposito Della tecnica Oggi Si hanno Idee Che nonostante La volontà Di andare Al fondo Del fenomeno Rimangono La superficie Beh Parlando Di tecnica Innanzitutto Non possiamo Dimenticare Schmitt Ma Schmitt Richiama Heidegger E' strano Questi due Individui Beh Questi due Notevoli Personalità Entrambi Di derivazione Cattolica Entrambi Nazionalsocialisti Entrambi Critici Della tecnica Che però Non Sembra Che Avessero Simpatia L'uno Per l'altro Ebbene Vorrei Provare A indicare Loro Che la tecnica Di cui Parliamo Non è Quella Criticata Da personaggi Come Schmitt O Heidegger Ma Non è Nemmeno La Tecnocrazia Che Rivendica Invece La Primazia Il carattere Essenziale Della tecnica Quando parlo Di tecnocrazia Mi riferisco Ai preamboli Innanzitutto Teniamo presente Saint-Simon Da Saint-Simon Su Su Fino a Comte A Wiblen Questi sono I nomi Chiave Di un Atteggiamento Che Considera La tecnica Potremmo dire Dal punto di vista Tecnicistico Scientifico La tecnica Così come Vista dai Tecnici E dagli Scienziati Quando Ci accosteremo Al significato Della parola Accostandoci Al significato Della parola Tecnica Intenderemo Sganciare Questa parola Dalle limitazioni Che le competono In quanto Considerata E dal punto di vista Dei nemici E dal punto di vista Degli amici Della tecnica Oggi Anche questo Un luogo Comune Si dice La tecnica È presente Prevale Nella vita Dell'uomo Dal telefonino E tutto il resto Ma cosa vuol dire Prevalere Cosa vuol dire Che la tecnica Prevale Innanzitutto Tecnica Non è soltanto L'applicazione Come dicevo prima Della scienza All'industria Ma è la progressiva Adozione Dei criteri Delle scienze dure Fisica Matematica Biologia Oggi Da parte Di strutture Che inizialmente Non erano Riportabili All'atteggiamento Tecnologico Quindi Per tecnica Io intendo Un sistema Di sottosistemi Dove i sottosistemi Sono Sottosistemi Economico Finanziari Sanitario Scolastico E via dicendo Burocratico Oggi noi Parliamo male Della burocrazia Però Max Weber Aveva indicato La necessità Di una burocrazia Che è ben funzionante E ciò che Consete allo Stato Di sopravvivere Il guaio Non è L'esistenza Della burocrazia È il cattivo Funzionamento Della burocrazia Allora Per tecnica Intendiamo Questo Sistema Di sottosistemi Ognuno Di quali Va adeguando Le proprie Procedure Ai criteri Della razionalità Dell'originaria Razionalità Scientifica Il modo in cui Vengono organizzati Gli ospedali Le scuole Gli uffici Statali E via dicendo E la struttura Militare Che se prima Non ho enunciato Va enunciata Per prima Visto che La tecnica Oggi Ha Un culmine Nella produzione Di quegli apparati Atomici Che continuano Come Dirò poi In modo Un po' più ampio Poi Che continuano A determinare Il rapporto Tra i popoli Oggi Allora Il prevalere Ci eravamo Chiesti Della tecnica Che cosa Consiste Il prevalere Della tecnica Intesa Come sistema Di sottosistemi Significa Il riuscire A imporre Il proprio Scopo Sugli scopi Di altre Forze E oggi Quali sono Le forze In vita Le forze Dominanti Viventi Capitalismo La democrazia Ma ancora Il comunismo Perché è vero Che il comunismo Russo È finito Però La Cina È una Interessante Commistione Di Marxismo E di Capitalismo Quindi E la Cina Oggi Ha una posizione Preminente Come sappiamo E quindi Non si può dire Ieri Il comunismo Ma ieri Il comunismo Sovietico Oggi Ha ancora Certe forme Di comunismo Le forze dunque Che Oggi Sono dominanti Le stiamo elencando Capitalismo Comunismo Democrazia Cristianerismo Islam Nazionalismi Queste sono le forze Dominanti Che rispetto alla tecnica In che posizione Si trovano Di volersi Servire Della tecnica Per realizzare I loro Scopi Il capitalismo Che scopo ha Qualche volta Mi si è detto Ma guarda Che il capitalismo Ha molti significati Certo Ma perché Parliamo di Capitalismo Europeo Americano E non mettiamo Insieme I fiori O i tavoli Perché diciamo Capitalismo Europeo Americano Russo E non lo aggiungiamo Al tavolo Perché il tavolo Non ha L'elemento Comune Che è Sotteso Alle varie Forme Di capitalismo E che è Comune E qual è Questo elemento Comune Di ogni Forma Di capitalismo Altre volte Ai vostri Compagni Forse qui C'è anche qualcuno Che ha già sentito Che andavo dicendo Nei corsi Precedenti Altre volte Dicevo Che il capitalismo Non è un'operapia E l'intento E la volontà Di incrementare All'infinito Il capitale Inizialmente Investito Capitale Privato E quindi Il capitalismo Ha come scopo L'incremento Indefinito Del capitale Privato Che questo Fondo Comune Si configuri In tanti Modi Diversi Certamente Ma Questo è Lo scopo Del capitalismo E per far Questo Il capitalismo Non Non ha avuto Bisogno Di attendere La tecnica Moderna Perché Da quando Lo scopo Della produzione Economica Non è stato Non è stato più Il benessere Del signore La gente Lavorava Per il benessere Del signore Ricordatevi La dialettica Servo Padrone In Eger Da che Lo scopo Non è stato più La produzione Di merci Per il benessere Del signore Ma è stato La produzione Di merci Per L'incremento Del denaro E questo Venuto Usando Una Le stesse Tecniche Che erano usate In età Medievale In età Feudale Tuttavia Nonostante L'adozione Delle stesse Tecniche Il capitalismo Era già nato Perché Era cambiato Lo scopo Se a un'azione Si cambia Lo scopo Quell'azione Cessa Di essere Quello Che essa È Se Esco Per andare A passeggio I movimenti Che compio Per andare A passeggio Anche se Sembrano Gli stessi Sono diversi Dai movimenti Che compio Se esco Per fare Per fare degli acquisti O per venire Qui a San Raffaele A fare lezioni Sembrano Identici Ma sono diversi Se due si amano Il loro rapporto Sessuale Diverso Dal rapporto Sessuale Mercenario A un cattivo A un cattivo A un cattivo osservatore Può sembrare Che si tratti Di comportamenti analoghi Ma non sono analoghi E non so perché Non sono analoghi Perché Lo scopo Dell'uno Dei due comportamenti È diverso Dallo scopo Dell'altro Ancora un esempio Se un medico Agisce Per guarire Anche se Le sue azioni Sono identiche Sembrano identiche Sono tuttavia Diverse Dalle azioni Compiute Da un medico Che agisce Per guadagnare Ciò non toglie Che delle volte Ci faccia guarire Di più Un medico Che vuole guadagnare Di un medico Che ci vuole far guarire Però Non è questo Il punto Che voglio Sottolineare Da sottolineare È la circostanza Che le due azioni Sono diverse Altro è L'apparentemente Identico Comportamento Di un medico Che Vuole farci guarire Altro è L'apparentemente Identico Comportamento Di un medico Che ha come scopo Il guadagno Ritorniamo Al rapporto Tra Tecnica E Forze Dominanti Ci eravamo Domandati La tecnica Prevale Cosa vuol dire Prevale E avevamo Incominciato A rispondere Dicendo Il prevalere E L'imporsi Dello scopo Della tecnica Sugli scopi Delle forze Oggi Dominanti Le avevamo Alla buona Enumerate Capitalismo Comunismo Eccetera Democrazia Le quali Hanno scopi Diverse Una dall'altra Non si creda Non credano Che per il fatto Che Il capitalismo Va insieme Alla democrazia Capitalismo E democrazia Siano Lo stesso Fenomeno Che Da capo Citiamo Weber Che come dice Weber Il capitalismo Si trovi Più a suo agio Con una democrazia Che non Con uno Stato Totalitario Sì Perché L'ottato Totalitario Mette il bastone Tra le ruote All'impresa Capitalistica Di quanto Possa mettergli La democrazia Ma Ciò non vuol dire Che Democrazia E capitalismo Costituiscano Lo stesso fenomeno E infatti Lo scopo Della democrazia Non è L'incremento Del profitto Privato Il scopo Della democrazia È la Riguaglianza Libertà Degli individui E la Il contrasto Tra democrazia E capitalismo Si è fatto sentire Nel tempo Per cui La regulation Del capitalismo È in buona parte Dovuta Alla democrazia E la Deregulation Del capitalismo È in buona parte Dovuta All'indebolimento Delle barriere Democratiche Rispetto Allo Strapotere Del capitalismo Facciamo un passo Avanti Non solo Ognuna di queste Forze Forze È diversa Dal capitalismo Non solo Ognuna di queste Forze Ha uno scopo Diverso Dal capitalismo Ma Hanno anche Scopi Tra loro Diversi Quando parlo Di queste cose L'esempio Più Alla portata Di mano È Ecco Abbiamo parlato Di cristianesimo Di democrazia Ora Uno dei Leitmotiv Della Chiesa Cattolica È che Non c'è Libertà Senza Verità Prima Abbiamo detto Che Scopo Della democrazia È L'eguaglianza La libertà Ma la Chiesa Cattolica Precisa Non c'è Libertà Senza Verità E Cos'è la verità E La verità Questa Sarà una Delle parole Chiave Dei nostri Incontri La verità È Il modo In cui Il cattolicesimo Interpreta il mondo La verità È il mondo Alla luce Della Cristologia E La Chiesa Cosa dice Alla democrazia Niente libertà Cioè Niente Vera democrazia Senza Verità Cioè Senza Che la libertà Sia adegui Alla interpretazione Cattolica Cristologica Del mondo E' chiaro che Una democrazia Come quella Che è venuta A costituirsi Non può Oggi Che è venuta Oggi A costituirsi Non può Accettare Questa Questa sollecitazione Della Chiesa Cattolica E non solo Cattolica Fatta la democrazia Perché Perché In seguito A un processo Anche questo Che dovremmo mettere Sott'occhio Un processo Di distacco Dalla tradizione Si ricordino Questa parola Distacco Dalla tradizione Al concetto Tradizionale Di democrazia Che potremmo Chiamare Greco Medioevale Dove la democrazia Significa L'adeguazione Dello Stato Alla verità E' venuto Questo concetto Di democrazia E' stato sostituito Ma non soltanto Teoricamente Ma anche Praticamente E' venuto Sostituito E' stato sostituito Dal concetto Di democrazia Procedurale Democrazia Procedurale A molti Effetti Cominciando Da Jefferson Presidente Gli Stati Uniti La religione E' un fatto Privato Loro sanno Che Questo è E' il Satana Dal punto di vista Dell'Islam Che la religione Si è fatto Privato Negativo Negativo Per eccellenza La religione Per l'Irland Deve essere Fatto pubblico Stato Uguale Teocrazia Questo per l'Irland Ma la democrazia Quale è praticata In Occidente Si è Sganciata E' proprio Per questo Che c'è L'urto Tra mondo Capitalistico Cristiano E mondo Islamico La democrazia Si è Sganciata Da questo Da questo Rapporto Con la verità E' diventata Democrazia Procedurale Cosa vuol dire? Vuol dire Le convinzioni Religiose E anche La cosiddetta Verità Sono faccende Degli individui Sul piano pubblico Ciò che decide E' il parere Della maggioranza Espresso Con le elezioni Se vogliamo Usare la parola Verità Allora Verità Che cos'è? E' il risultato Elettorale Dove Legge Diventa Ciò che è stato Deciso Dalla maggioranza Allora Questo vuol dire L'antitecista Il carattere Antitetico Della democrazia Procedurale Rispetto All'esortazione Della Chiesa Cattolica A che Non ci sia Libertà Senza verità Ma potrei continuare Tengono presente Ciò di cui Intendo Parlare Cioè Il carattere Conflittuale Se eravamo arrivati Col discorso Non solo Tra le forze Dominanti E la tecnica Ma dicevamo All'interno Delle forze Dominanti Quindi facciamo Un secondo esempio Il rapporto Da capo Tra Chiesa Cattolica E capitalismo Questa volta Le encicliche Le ultime encicliche Parlano chiaro In proposito La Chiesa Cattolica Cosa dice Al capitalismo Sì Tu sei Un sistema Di produzione Della ricchezza Superiore All'economia All'economia Pianificata Di tipo Bolshevico O Cino Capitalistico Ci intendiamo Cosa interno A dire Con questa espressione Tu capitalismo Dice La Chiesa Cattolica Sei un sistema Ripeto Di produzione Più efficace Della ricchezza Che non L'economia Pianificata Però Tu capitalismo Devi avere Come scopo Il bene Comune Provino A ricordare Cosa dicevamo Prima Quando parlavamo Dal medico Del rapporto Sessuali Sessuali Della passeggiata Che se si fa Cambiare Scopo Un'azione Quell'azione Non è più Quella che era Se Al capitalismo Si dice Guarda Che tu Non devi più Avere come scopo Il profitto Privato Il quale Può restare Come mezzo Ma deve avere Come scopo Il bene Comune Un concetto Che risale Ai greci Aristotele A Platone E allora Al capitalismo Si dice In forma Che non Intende Essere Violenta Ma Quello Che il comunismo Bolshevico Diceva Al capitalismo In forma Violenta Tu devi Finire Di essere Tu devi Cessare Di essere Perché Ma perché Il tuo scopo Non può Essere L'incremento Del profitto Privato Lo scopo Deve essere Per il comunismo La società Senza Classi Questo è Un esempio Tra i molti Che loro Possono Svilupparli Per conto Proprio Per conto Loro Si possono Fare Per chiarire Come Le forze Oggi Dominanti Che si Servono Della Tecnica Sono Peraltro Tra di Loro In Conflitto Chiarita La Qualcosa Proviamo A fare Un passo Avanti Sono Tra di Loro In Conflitto E Dicevamo Si servono Tutte Della Tecnica Della Tecnica Moderna Della Tecnica Guidata Dalla Scienza Moderna Che Che Il Capitalismo Si servono Della Tecnica Non c'è Bisogno Dichiarirlo Qualcuno Potrebbe avere Qualche Perplessità Per quanto riguarda I cristianesi Ma il cristianismo Si serve Della Tecnica E come Tanto che Se Detto Evangelico Non sappia La mano Sinistra Di quello Che Fa La Destra A proposito Della carità Fosse applicato Oggi L'opera Di Aiuto Che il cristianesimo Vuole Dare Ai popoli Sottosviluppati Sarebbe Impossibile L'aiuto Ormai E Non più La carità Privata E La carità Cosmica La chiesa Non 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 intende Più Che i singoli Diano Lobolo Al mendicante Che si trova Per strada Ormai È un problema Cosmico La carità È un problema Cosmico E L'organizzazione Della carità È indispensabile Una carità Cosmica Non Organizzata Fallisce Ma L'organizzazione Della carità Cosmica È un Evento Di carattere Tecno Scientifico Non è un caso Che uno Dei sistemi Di Eh Cibernetico Telematici Ci Esistenti al mondo Sia Del Vaticano Perché deve Farsi sentire La sua voce Ovunque Se non Facesse sentire La sua voce Si ritornerebbe Alla situazione Privatistica Della carità Ma Un sistema Di comunicazioni Come quello In possesso Della chiesa Cattolica Non può Che avere Carattere Tecnico Quindi Quando dico Che tutte Le forze Si servono Della tecnica Tutte le forze Oggi dominanti Si servono Della tecnica Non possiamo Fare eccezione Per il cristianesimo Essendo peraltro Facile Di conoscere Che capitalismo Democrazia Nazionalismi Comunismo Si sono serviti E ci servono Della tecnica Ora Che cosa Accade In una situazione In cui Una pluralità Di forze Si serve Della tecnica E queste forze Sono in conflitto Tra di loro Conflitto Vuol dire Conflitto tra me E te Vuol dire Ti lascio stare No Conflitto tra me E te Vuol dire I miei scopi Devono prevalere Sui tuoi Il mio scopo Deve realizzarsi Il tuo o no Potrà Assumere la figura Di mezzo Ma Se io Ti vinco Ti vinco Perché il mio scopo Si realizza Il tuo o no Questo vuol dire Conflitto Tra le forze Che oggi Si servono Della tecnica Ma c'è qualcosa Di più Rilevante E nel conflitto Per prevalere È necessario Non solo Possedere Lo strumento Che consente Di prevalere E lo strumento È la tecnica La tecnica Essendo Lo strumento Che oggi È riconosciuto Come il più potente Di tutti Quelli Che sono Stati a disposizione Dell'uomo Ma solo È necessario Possedere Lo strumento Tecnico Ma per prevalere È necessario Potenziarlo Qualora Ci si trovi In uno stato Poniamo Di parità Se siamo In pareggio Non riesco A prevalere Perché Perché Il pareggio Si è rotto Per prevalere E quindi Per prevalere È necessario È necessario Che potenzi Lo strumento Che mi consente Di prevalere E cioè Che incominci Ad assumere Come scopo E come scopo Sempre più ampio E sempre più Determinante Il potenziamento Dello strumento Cioè Il potenziamento Della tecnica Ma è chiaro Che tu Che assisti Al Mio potenziamento Dello strumento Di cui dispongo O ti arrendi O ti arrendi E tu sei È una di quelle forze Di cui parlavamo Prima Tra loro Confliggenti Poniamo Capitalismo E comunismo O ti arrendi O a tua volta Potenzi E lo strumento Cioè A tua volta Assumi Sempre di più Come scopo E come scopo Sempre più Prevalente Il potenziamento Dello strumento Di cui ti servi Ma Prevalente Su che cosa? Sullo scopo Originario Allora Lo scopo Originario Del capitalismo È l'incremento Indefinito Del profitto Privato Si figurino Lo scopo Come un cerchio Un cerchio Che deve essere Realizzato Eccolo là Cerchio Ma Stiamo dicendo Perché Il cerchio Sia realizzato Bisogna potenziare Lo strumento Allora Lo scopo Non è più Soltanto Quel cerchio Uguale Incremento Indefinito Del profitto Privato Ma è il potenziamento Del mezzo Allora Quel cerchio Viene ad essere Sempre più Occupato Dal potenziamento Del mezzo Cioè Lo scopo Acquista Sempre di più I caratteri Del potenziamento Del mezzo A detrimento Dello scopo Originario Cioè in questo caso A detrimento Dell'incremento Indefinito Del profitto Privato Ma se Qualcuno Dei contendenti Tu e Dio Vogliamo arrivare A prevalere Sull'altro È inevitabile È inevitabile Che prevalga Quello che Avrà più Occupato Il cerchio Di cui sto parlando Con il rafforzamento Dello strumento Tecnico Che gli consente Di Prevalere Sull'avversario Allora Allora in questo caso C'è La forza A E la forza B La forza A Ha come scopo L'incremento Del profitto Privato Per prevalere Deve potenziare Il proprio strumento Facendolo Diventare Sempre più Protagonista E Elemento Occupante Del cerchio Costituito Dallo scopo Originario Della forza A La forza A Prevale Sulla forza B Se Il potenziamento È maggiore Ma a questo punto Chiedo a loro Chi sarà il vincitore Il vincitore È ancora il capitalismo Oppure È qualcosa Che Proprio perché Per voler salvare Il capitalismo Ha dovuto incrementare La potenza Del mezzo Che avrebbe dovuto Realizzare il capitalismo Proprio perché Per questo incremento Ha modificato lo scopo Proprio per questo Ha come scopo Qualche cosa di diverso Da ciò che lo Definiva E chi è il vincitore E chi è il vincitore Allora È il capitalismo O è la tecnica Io mi ricordo Che avevo In una Tavola rotonda Con E ciocca Non so se lo conoscete Quell'economista Nottevole Insomma Non so se mi interessa Ma Gli avevo presentato Questo Questo discorso Date due forze Se una delle due Perché in principio Non era molto convinto Di questo discorso Se una delle due Ha come scopo Il proprio scopo Definente Per esempio Il capitalismo Ha come scopo E Il profitto privato E Una certa E un certo potenziamento E una certa quota Di potenziamento Del mezzo Forza Forza B Forza A Rispetto a quello Che dicevo prima E se un'altra forza Invece Ha come scopo Unicamente Il potenziamento Del mezzo Quale delle due E' destinata A prevalere E Non so Come loro La pensino Ma E' interessante Sapere Come anche Ciocca Diceva Si Impostato In questo modo E' chiaro Che è uno schema Quello che sto dicendo Loro Che Esilia Di essere Concretato In ogni Sua proposizione Ma Se lo schema E' questo Allora Il prevalere Della tecnica Non è Semplicemente Quello che oggi Si dice Un fatto Ma E' una necessità E' un qualche cosa Di inevitabile Quindi ripetendo Ripetendo il discorso A ritrovo E' inevitabile Perché c'è conflitto Tra le forze Perché queste forze Sono tra di loro In conflitto E si servono Della tecnica Ma a questo punto Credo che La domanda Princeps Che loro Si fanno Dovrebbero farsi E' questa Ma come mai Queste forze Rinunciano ai loro scopi Cioè Rinunciano Sono costrette a rinunciare Ai loro valori Perché Lo scopo E' il valore Che cosa è accaduto Perché possano Decidersi A Cedere Alla tecnica Il ruolo Di Forza Realizzante Lo scopo Che a questo punto Non è più lo scopo Dell'Italia O dell'Europa Ma è lo scopo Planetario Perché quanto abbiamo detto Finora Si riferisce Ad ogni Luogo In cui la tecnica Agisce E la tecnica Agisce in ogni luogo Proprio perché A differenza di quello Che comunemente Si crede Che la globalizzazione Sia un fenomeno Economico Capitalistico La globalizzazione E' insieme Un fenomeno Tecnologico Anzi Ci può essere Globalizzazione Economica Solo se c'è La forza Tecnica Che la sostiene Quindi alla base Della globalizzazione Economica C'è la globalizzazione Tecnica Quindi per questo Dico Il fenomeno Che stiamo considerando È globale Ma ci stavamo Chiedendo Che cosa è accaduto Perché le forze Si decidessero A rinunciare Le forze Che si servono Della tecnica Si decidessero Si decidessero Meglio Si stiano Decidendo Meglio Siano In cammino Verso Questa decisione E si decidano Sotto il mantello Sotto il mantello Del capitalismo Ma stiamo dicendo Questo Individuo Coperto Dal mantello È destinato A buttare via Il mantello O a servirsene Non a essere Servitore Del mantello Che cosa è accaduto Beh Facciamo Tre minuti Di intervallo E poi proviamo A rispondere A questa domanda La lotta Che si è verificata In Russia Per La realizzazione Della società Senza classi Ha richiesto Sacrifici enormi Il processo Ha funzionato Sintanto che In prevalenza Si è creduto Che L'esistenza Di una società Senza classe Fosse Una verità Inevitabile Allora Considerandola Come verità Inevitabile Finché Si è considerata Come verità Inevitabile I sacrifici Sono stati Sopportati Non sono più Stati Sopportati Quando Il marxismo Ha mostrato Di non Poter essere Una verità Inevitabile Questo vuol dire Che Il motivo Per il quale Come dicevo Alla fine Della lezione Precedente Il motivo Per il quale Le forze Che si servono Della tecnica O incominciano O sono Destinate A rinunciare I loro scopi In questo processo Tendenziale Il motivo È che Queste forze Non credono Più Nella verità Inevitabile Dei loro Valori Questa affermazione Ci spinge Al tema A uno dei temi centrali Del discorso E cioè Al significato Della parola Verità Ci stiamo Allontanando Dalla Attualità Sotto la spinta Della Impossibilità Di comprendere L'attuale Senza questo Allontanamento Coloro che credono Di stare al concreto Facendo Facendo Della cronaca Stanno Al di là Di ciò Che sta succedendo Di ciò Che sta accadendo Il senso Del nostro Tempo Va progressivamente Chiarendosi Più risaliamo All'indietro Del nostro Tempo L'esigenza L'esigenza Di concretezza Di stare Al qui Ora Che la cronaca Indica Via via Giorno Per giorno E' il modo Migliore per non capire Nulla Del significato Del senso Del nostro Tempo La verità Abbiamo pronunciato La parola verità Da dove viene fuori Questa parola Verità Nelle lingue Indoeuropee La radice Var Vuol dire Guardia Protezione Coprimento C'è il senso Del coprirsi Difendendosi Ma non è questo Il senso Che la verità Ha assunto Diventando Il baricentro Della storia Dell'Occidente Verità Significa Quello che Il pensiero greco Il pensiero filosofico Greco Ha incominciato A dire Intorno A questa parola Che anche In greco Ha una Forma Diversa Linguisticamente Dalla Parola Verità Var E La verità Si dice Alezzeia Credo che In questa università L'avrete O lo sentirete Molte volte Alezzeia Alezzeia È Un alfa Privativo A Che vuol dire Non Lezzeia Che da ultimo È riconducibile Alezze Che vuol dire Oblio Nascondimento Alezzeia È il Non Nascosto Non Nascosto Però L'enfasi Che Heidegger Pone Sulla parola Alezzeia E non c'era bisogno Di Heidegger Perché Si sapesse Che Alezzeia Vuol dire Non Nascondimento Perché basta Aprire un Qualsissimo Vocabolario Di greco Per vedere Che Alezzeia Vuol dire Non Nascondimento L'enfasi Di Heidegger Su questa parola Non tiene presente Che Il modo In cui Questa parola Compare Nel Perciero Greco È Espresso Nel modo Più Pertinente Dall'espressione Aristotelica Episteme Tes Alezzeias Alezzeia È nominativo Alezzeias È genitivo Episteme Noi diciamo Epistemologia Ma perché Epistemologia Epistemologia Viene da Episteme E questa parola Che cosa Dice È composta Dalla Preposizione Epi E Dalla Forma Sostantivale Steme Epi Vuol dire Sopra Steme Vuol dire Indica Indica lo Stare E proviene Dalla Radice Indoeuropea Sta Sta Noi diciamo Lo Stato Sten Episteme Lo Stante Sopra Heidegger Riflette Su Alezzeia Ma Episteme Dice Aristotele Episteme Tes Alezzeias Lo Star Sopra Che è Proprio Del Non Nascondimento Non c'è Soprattutto Il Non Nascondimento Se Dimentichiamo Di Episteme Allora Non Cogliamo Il Senso Che I Greci Danno Alla Parola Verità Lo Stare Cioè Lo Stare Vuol dire Il Non Essere Abbattuti E Nemmeno Scossi Da Forze Contrastanti Che Minacciano Che Minaccino La Stabilità Dello Stante Il Quale Dunque In Questa Sua Capacità Di Stare Sta Sopra Quelle Forze Che Vorrebbero Negarlo Metterlo Al suo Quadro Abbatterlo Lo Stante Il Non Nascosto E Ciò Che Sta Riesce A Stare Su Ciò Che Vorrebbe Smuoverlo Ma Quindi Il Non Nascosto È Un Contenuto Di un Sapere Di una Di una Visione Quindi è Un Sapere Ciò Che È Non Nascosto Episteme Tessale Teias Per i Greci Vuol dire Quel Sapere Cioè Quel Non Nascosto Che Nessuna Forza Può Smentire Non solo Nessuna Forza Umana Ma Nessun Cambiamento Di Tempo Nessun Cambiamento Di Costumi Di Configurazione Dell'umano Nessun Dio Nessun Dio Onnipotente Possono Smentire Ora Accade Spesso Che Nelle Università Si Imparino Tante Cose Ma Non Si Rifletta Sulla Cosa Più Importante Sull'evento Più Importante Che È Il Riuscire A Guardare Il Senso Dell'assolutamente Non Smentibile Che Peraltro È Un Senso Che Noi Continuamente Maneggiamo Quando Per E E Lo Scienziato Dice In Modo Paludato E Apparentemente Modesto Noi Non Vogliamo Dire Verità Definitive Ma Enunciamo E oggi La scienza Ha i suoi buoni Motivi Per dirlo Enunciamo Verità Ipotetico Di carattere Statistico Probabilistico Non Vogliamo Enunciare Verità Definitive Ma Cosa Sono Queste Verità Definitive Se Non Sappiamo Che Cos'è La Verità Definitiva Non Capiamo Neanche Cosa Vuol Dire Lo Scienziato Quando Dice Sapere Serio E L'enunciazione Di Ipotesi E Non Di Quelle Fantasticherie Del Pensiero Filosofico Che Sognò La Verità Definitiva Ma È Stato Quel Sogno L'evento Decisivo Dell'uomo Perché Prima Ancora Di Sapere In che Consista La Verità Definitiva È Necessario Sapere Il significato Di Verità Definitiva Quando Parlo Di Queste Cose Faccio L'esempio Dell'astronomo Quale Calcola Il rapporto Tra Gli Astri E Ne Sa Molto Però Ancora Più Decisive Fondamentale Del Calcoli Dell'astronomo È La Circostanza Per cui A un Certo Momento Un Quadrupede Si è Alzato Sulle Gambie Posteriori E Umanizzandosi Ha Guardato Il Cielo E Ha Visto Il Cielo Non È Fondamentale Questo Guardare Il Cielo Rispetto a Tutto Ciò Che Si può Sapere Intorno Ai Corpi Del Cielo Ecco Il Pensiero Greco È Il Quadrupede Che Si è Alzato Guardato E Ha Evocato Il Senso Della Verità Assolutamente Incontrovertibile Per Per indicare Questa Incontrovertibilità Aristotele Usa Questa Espressione Che L'incontrovertibile È Ciò Che Uc Endeketai Allos E Che Non È Possibile Che Stia Altrimenti Non È Possibile Guarda Ogni Tentativo Di renderlo Possibile Quindi Per questo Dicevo Prima Ne Uomini Ne Dei Ne Cambiamento Di Stagioni Di Tempi Riescono A Smentire L'incontrovertibile Noi Oggi Siamo In un Tempo In cui Per Certi Motivi Che Scruteremo Non Si Crede Più Nell'esistenza Della Verità Incontrovertibile E Però Incominciamo A capire Qualcosa Di quello Che È Il senso Fondamentale Del nostro Tempo Solo Se Diciamo Primo Che La Tecnica È Destinata Al Dominio Del Nostro Tempo Che Questa Destinazione Significa La Rinuncia Delle Forze Che Si Servono Della Tecnica Ai loro Scopi E poi Che Questa Rinuncia È dovuta A non Credere Più Nella Verità Incontrovertibile Di questi Scopi E poi Il luogo Della Verità Incontrovertibile Qual è? È È quel popolo Greco Che È unico Nella storia L'antico Popolo Greco Che riesce A contrapporsi Ai millenni Del mito E i millenni Del mito Si fanno Sentire Ancora Noi ci troviamo Più A nostro Agio Nelle nostre Convinzioni Come le chiameremo Queste convinzioni Nelle nostre fedi Nel modo in cui Abbiamo fede Nel mondo Ci troviamo Più A proprio Agio A nostro Agio Con le fedi Che non Con la Non fede In cui Consiste L'episteme Tes Alecceia La filosofia È Il primo Atto Di Negazione Dei millenni Del mito E cosa Anche qui Cosa sono Questi Millenni È Possibile Raccogliere I millenni In un Significato Unitario Ma Sì Se noi Saremo in grado Di cogliere Ciò che è Comune Alle varie Infinite Forme In cui Quei millenni Ci sono Presentati Proviamo A interrogare Uno dei Racconti Uno dei Grandi Miti Della nostra Tradizione Che È il Vecchio Testamento Che cosa Accade Di essenziale Nel Vecchio Testamento All'inizio Del Genesi Il Il Serpente Dice Ad Adamo Mangia Questo Frutto Perché Mangiandolo Eritis Sicut Di Sarete Come Dei Il Plurale Non Lo Consideriamo Perché In quel Contesto È Yahweh Che È Il Dio E Adamo E Eva Mangiano Il Frutto Cioè Decidono Di Mangiare Il Frutto Dalla Conoscenza Del Bene Del Male Ma Cosa Vuol Dire Eritis Sicut Di Adesso Io Avrò Un'enfasi Che Lascerà Loro Molto Delusi Perché È Quello Che Loro Sanno Già Da Sempre Cosa Vuol Dire Essere Come Di Come Dei Proviamo A Pensare Insieme A Questo A Questo Evento Vuol Dire Restare Ciò Che Si È Essere Come Dei Vuol Dire Restare Ciò Che Si È Adamo Volendo Essere Come Dio Vuol Restare Ciò Che È Come Adamo In Questo Caso Chi Taccia Non La Consente Dico Bene Non Vuol Restare Ciò Che È E Cosa Vuol Dire Non Voler Restare Ciò Che È Vuol dire Smuoversi Da Ciò Che È Uscire Da Ciò Che È Diventare Altro Da Ciò Che È Adamo Vuol Diventare Altro Da Ciò Che Addirittura Vuol Diventare Dio Ma Questo Voler Diventare Altro Da Ciò Che Si È Una Peculiarità Del Genesi Veterotestamentario O È Il Fenomeno Essenziale Dal Quale Dipende L'esistenza Dell'Uomo Sulla Terra Proviamo A Vedere Come Si Risponde A Questa Domanda Io Credo Che Tutti Noi Abbiamo La Sensazione Di Essere Stati Da Bambini In Una Condizione In Cui Dovevamo Farsi Largo Amo Dire Innanzitutto Respirando Perché La Dilatazione Del Petto Implica Farsi Largo Abbiamo Avuto Tutti La Sensazione Di Doverci Far Largo In Ciò Che Ci Stringeva E In Quanto Ci Stringeva Era Una Barriera Per Vivere Per Vivere Dobbiamo Incominciare A Respirare A Dilatare Il Petto Ma La Dilatazione Poi È Progressiva Perché Non Basta Dilatare Il Petto Dobbiamo Poi Succhiare Il Latte Muoverci Sfondare La Barriera Che Inizialmente Circonda L'uomo Ora Questa Sensazione Che Noi Abbiamo Se ci Mettiamo A Pensare Che Cosa Può Essere Stato L'inizio Della Nostra Vite Individuale Questa Sensazione È Non Soltanto Ontogenetica Ma Filogenetica Cioè Riguarda L'intera Razza Umana L'uomo Incomincia A Aprire Gli occhi E A Trovarsi Dinanzi A Una Invincibile Inizialmente Invincibile Barriera Che Non Gli Consente Di Vivere È La Potenza È La Potenza Suprema Di Fronte La Quale I Tentativi Iniziali Dell'uomo Falliscono Più Tarde Sarà Chiamata Natura E Poi Sarà Chiamata Il Demonico E Poi Il Divino Tutte Queste Espressioni Insieme Il Demonico Terrificante Perché Il Terrificante Inizialmente È Il Demonico Demonico Significa Terrificante E Anche Il Divino Sì Dopo I Greci Hanno Pensato Il Divino Come Luminoso Ma Non Per Nulla Otto Il Grande Storico Ludo Fotto Ha Rilevato Che Il Divino È Tremendum E Il Tremendum Ma Che 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 Cosa Vuol dire Questo Che Al Tentativo Dell'uomo Di Diventare Altro Facendosi Largo Nella Barriera Che Inizialmente Lo Stringe La Barriera Risponde Uccidendolo Il Il Rapporto Iniziale Tra La Barriera Natural Demonico Divina E L'omicidio Il Dio Uccide L'uomo Non È Poi Così Inverosimile Che Poi L'uomo Voglia Diventare Dio Perché L'uomo Inizialmente È Soppresso Dal Divino O Lo Si Chiami Demonico O Lo Si Chiami Tremendum Perché Dio Che Cosa È Se Non Appunto La Potenza Suprema Il Divino È La Potenza Suprema L'uomo Riesce A Vivere Solo In Quanto A Sua Volta Fa Arretrare La Barriera E L'arretramento Della Barriera È Il Deicidio Adamo Tenta E Nel caso Di Adamo Un Deicidio Fallito Adamo Tenta Di Far Arretrare Di Uccidere Il Dio Inizialmente Inflessibile Tenta Di Flessibilità Della Barriera Ma Sia Da Parte Di Dio Sia Da Parte Dell'uomo Che Cosa Accade Se Non Un Voler Far Restare Non L'uomo L'uomo Che Si Affaccia E Che Vuole Aprirsi Un Varco E Da Parte Dell'uomo Che Cos'è Il Voler Farsi Un Varco Se Non Diventare Altro L'uomo Vuol Diventare Altro Dio A Sua Volta Il Divino Uso La Parola Dio Perché Più Breve Ma Dovrei Fare La Sequenza Demonico Divino Tremendo Naturale Ecc A Sua Volta Il Divino Intende Arrestare L'uomo E Cioè Rispetto Alla Volontà Dell'uomo Di Diventare Altro Anche La Volontà Di Arrestarlo E Un Farlo Diventare Altro Se Io Voglio Uscire Qualcuno Mi Tiene Fermo E Rispetto Alla Mia Volontà Di Uscire Mi Arresta Mi Fa Diventare Altro Quindi C'è Un Reciproco Voler Far Diventare Altro I due Protagonisti L'uomo Da una Parte Il Demonico Dall'altra Perché Dicevo Prima Che Sarebbero Loro Stati Delusi A Sentire Questo Discorso Ma Perché Che Il Mondo Sia Un Diventare Altro E Ciò Rispetto A cui Le Discipline Concrete Che Si Segnano All'Università Ritengo Dovano Sia Il Caso Di Perdere Tempo Che Il Mondo Sia Un Diventa L'altro L'ovvietà Oltre la quale Vi andiamo a partire Però È Un'ovvietà Strana Perché È Un Qualche Cosa Che È Presente Ovunque Ma Ovunque Che Cosa Vuol dire In Tutto Lo Spazio Mitico Nelle Lezioni Che Feci Un Due Tre Anni Fa Elencavo I Miti Che Vanno Dal Pacifico Al Medio Oriente Per I Quali Il Mondo Nasce Perché Il Dio È Squartato Affinché Ci sia Vita Nel Mondo Occorre Lo Squartamento Del Dio Ma Non è Un Concetto Estraneo All Dimensione Cristiana In cui Siamo Cresciuti Perché Che Cos'è La Crocifissione Di Cristo Se Non Il Ripristino Del Mondo In cui L'uomo Può Trovare Salvezza Il Ripristino Dopo Il Tempo In cui La Salvezza Non Era Più Possibile Allora Affinché Il Mondo Vero Sia È Necessario Che Anche Cristo Che Anche Gesù Sia Squartato Ma È Un Concetto Che Risale Nella Notte Dei Tempi Che Vada Citavo Ainuele È Una Dea Del Pacifico Una Dea Della Vegetazione Che Deve Essere Squartata Affinché Crescano Le Pianze L'erba Gli Animali Ma Poi Lo Squartato Per Eccellenza È Dioniso Quindi Potrei Moltiplicare Gli Esempi Per Dire Come Il Concetto Di Un Far Un Reciproco Far Diventare Altro Sia La Condizione In base Alla Quale Noi Viviamo Il Diventa L'altro È Presente Ovunque Nel Mito E La Filosofia La Filosofia Essendo Quel L'eccezionale Evento Che Porta La Luce Il Senso Della Verità La Filosofia Prende Posizione Rispetto Al Diventare L'altro In un Modo Radicale Stiamo Parlando Dunque Di Un Diventare L'altro Che Essendo Ovunque E Anche Oggi Chi Di Noi Non Crede Che Le Cose Divengano Altro E Che Ci Siano Delle Forze Capaci Di Farle Diventare Altro Però Può Far Insospettire Il Fatto Che Sia Così Condiviso Questo Concetto E Sia Un Concetto Tale Da Poter Dire Qualcosa Intorno Al Significato Del Nostro Tempo Se Essendo Così Universalmente Condiviso E Presente Anche Nel Nel Nostro Tempo Che Cosa C'è Di Eccezionale Nel Pensiero Filosofico Io credo Che Se Non Gli Studenti Qualsì Cosa Potranno Fare In Futuro Non Capiscono Il Senso Dell'inizio Del Pensiero Filosofico Possono Fare Antropologia Psicologia Etnologia Tutte Le Discipline Ma Non Inutile Che Facciano Che Frequentino Una Facoltà Di Filosofia Cioè Non Si Sa Che Cos'è La Nascita Della Filosofia Sulla Quale Sempre Si Glizza Che Cosa Fa La Filosofia Relativamente Al Diventare Altro E Pensa Per La Prima Volta L'estrema Distanza Dell'altro Rispetto A Ciò Che Diventa Altro Cioè Pensa Per La Prima Volta Il Senso Radicale Dell'altro Rispetto A Ciò Che Diventa Altro Facendo Tutti Gli Scongiuri Ma Comunque Noi Siamo Qui Diventiamo Altro Perché Cresciamo Io ormai Sono Cresciuto Del tutto Ma Loro L'hanno Da Crescere Un bel Po E Hanno Da Diventare Altro Qual è Il senso Più Radicale Del Diventare Altro Diventare Maturi Ma Si può Diventare Più Maturi Quale Può Essere L'altro In senso Radicale Rispetto A ciò Che Si È E Allora Provo A dire La parola Nulla L'assolutamente L'assolutamente Altro Nel diventare Altro È Il Nulla Nulla Si Anche Omero Parla Degli Uk Ontes Uk Ontes In greco Vuol dire Uk Non Ontes Essenti Non Essenti Ma Quando Mero Parla Di Non Essenti Intende I morti E I morti Sono qualcosa Che Nello stesso Mondo Umerico Si Vivono Nelle Ombre Però Sono Ombre Non Sono Diventati Nulla Sono Ancora Un Qualcosa Di Felice Anche In Virgilio Questa Infelicità Nel Mondo Dell'aldilà Si Incontra Ma Gli Uk Ontes Non Sono Ancora Ciò Che Poi Kant Chiamerà Nil Negativum O Nil Absolutum E Che Era Pensato Come Nil Absolutum Già Da Dai Greci L'assoluta Nulla Di Tutto Ciò Che In Qualche Modo Ha Un Significato Questo Non Essere Non È Semplicemente Gli Ukontes I morti Di I morti Di cui parla Omero E L'assoluto Al di là Rispetto Ad ogni Significato O Siccome Le due Espezioni Sono Identiche Rispetto Ogni Ente Entendendo Per Ente Tutto Ciò Che È Significante Di Qui La Difficoltà Poi Di Pensare Il Nulla Perché Anche Il Nulla È Un Significante Ma Non Complichiamo Il Discorso Il Nulla Di Per Sè È Ciò Che Sta Al Di Di Ogni Significato E Allora Una volta Che Il Pensiero Filosofico Pensa Il Diventar Altro E Se L'assolutamente Altro È Nulla Ci Si Stiga Come Mai I Greci Possono Aver Incominciato A pensare La Morte Come Annientamento Mi Piace Ricordare Loro Vediamo Se C'è Sì Lagamennone Di Eschile Lo Conoscono Lagamennone Di Eschile Arriva Il Messaggero Da Troia Dopo Che La Flotta Greca È Stata Distrutta Dai Turbini Del Mare È Stata Distrutta Però Il Messaggero E Qualche D'un Altro Da Cui Agamennone E Cassandro Riescono Ad Arrivare Ma Ormai Tutta La Flotta È Stata Distrutta E Il Messaggero Rivolgendosi A Clitenestra Dice È Finita Per Loro L'angoscia Di Non Risorgere Più È Finita Per Loro L'angoscia Di Non Poter Risorgere Più Che vuol dire Che I marinai Cioè Il popolo È invaso Da questa Angoscia Ormai Il popolo È Attraversato Già Allora Dal Senso Radicale Del Nulla Che è Quello Per il Quale Morendo Si va In un Luogo Da cui Non Si Ritorna Più Proprio Perché È Nulla E Per Essi Che Sono Morti E Che Sono Diventati Nulla È Finita L'angoscia Di Non Poter Risorgere Più Beh Incomincia Con I Greci Un Senso Terribile Della Morte Che Prima Era Ignoto Prima Noi Ci Imbattiamo I fenomeni Di questo Tipo Che I morti Vengono Disassati E Sono Costumi Di Antiche Popolazioni E Gli Scheletri Vengono Appesi Agli Alberi Andiamo Ancora Nel Pacifico Ma Perché Vengono Appesi Agli Alberi Perché Si Pensa Che Come A Primavera L'albero Rifiorisce Così Gli Scheletri O Questo O In Una Prossima Primavera Avviano A Rivestirsi Di Nuovo Di Carne E Tornino Viventi Questo Grande Sogno Del Mito Un Sogno Che Dura Millennhi E Viene Dissolto Dalla Comparsa Del Pescello Filosofico Dalla Comparsa Dell'episteme Tessale Teas Dove Allora Ciò Che E questo Sottolineiamo Ciò Che Incomincia A Stare Non Nascosto E Proprio Il Diventare Altro A Partire Dal Non Essere Stato E Al Ridiventare Niente E Proprio Il Diventare Altro L'originariamente Stante E Infatti Quando Noi Ci Meravigliamo Per Questi Discorsi Sul Diventare Altro E Diciamo Pensiamo Cose Più Serie Diciamo Questo Perché Ma perché Siamo convinti Che è un'evidenza Così Indiscutibile Il diventare Altro E Il diventare Da Altro E ormai È diventato Un'evidenza Indiscutibile Che tutte le cose Non sono State E Torneranno Ad un Essere Che perché Si accenna Un lume Di speranza In noi Rispetto Al futuro E Occorre Una fede Per esempio La fede Cristiana La quale Parla Della Grazia Di Dio La quale Si farà Rinascere Ciò che di per sé Però sarebbe Definitivamente Morto Occorre Un potere Meraviglioso Come quello Di un Dio Onnipotente Perché Si ha vinto Il nulla Della morte Ma Tra le forze Che vanno Che vanno Al tramonto Oggi Che tendono Ad andare Al tramonto Perché la tecnica Tende A prendere Il sopravvento E anche Il cristianesimo La crisi Del nostro Tempo È la crisi Della tradizione Occidentale Di questa crisi Avrei voluto Parlare Oggi Non c'è stato Tempo Quindi Le mie lezioni Prossime Saranno tutte Sfasate Perché oggi Sono riuscito A dire la metà Di quello Che volevo dire Quindi Cercherò Di rabberciare La volta Avventura In qualche modo Arrivederci